Uno dei primi miti da sfatare è quello se il coito interrotto può rientrare fra le tecniche contraccettive oppure no. Mai pensare che il coito interrotto sia una buona pratica per proteggersi. Il secondo mito invece riguarda i rapporti orali. Un grandissimo bacino di dubbi e curiosità. Il mito più diffuso è quello che i rapporti orali siano meno pericolosi per il rischio di malattie rispetto ai rapporti penetrativi. Non è necessariamente vero, dipende da tante variabili, quindi anche i rapporti orali sono da ritenersi a rischio. Sicuramente per alcune patologie hanno un rischio minore, ma si parla sempre di rischio statistico, quindi in generale conviene sempre proteggersi. Il gioco non vale mai la candela rispetto al divertirsi. Quando utilizzare il condom? Ci sono tante vie di pensiero, nel senso di utilizzare il condom fin dall'inizio del rapporto piuttosto che utilizzarlo un momento prima dell'orgasmo. In realtà l'unico metodo che ci protegge sia dalle gravidanze sia dalle malattie sessualmente trasmissibili è quello di utilizzare il condom fin dall'inizio dell'attività sessuale. Quindi appena si decide di avere una penetrazione o un rapporto orale. Altro punto molto discusso è la conservazione del condom. In generale non è una buona pratica conservare il preservativo all'interno del portafogli piuttosto che dentro il bauletto del motorino, perché il preservativo si deteriora, viene schiacciato, si riscalda, si surriscalda e quindi la membrana diventa meno elastica. Altra cosa molto importante è l'apertura del profilattico, quindi mai aprirlo con i denti, cosa che invece ci viene molto naturale presi magari dalla foga del momento, ma utilizzare sempre le mani per non incorrere nella rottura del preservativo. Va sdrotolato tenendo chiuso il serbatoio alla cima del preservativo, sdrotolato lungo tutta l'asta del pene, fino alla base. Altrimenti si può incorrere anche lì, in una contaminazione o nella rottura durante il rapporto. Quindi è sempre meglio leggere le istruzioni anche se possono sembrare noiosi e ripetitive. Altro punto importante è fare il test o non fare il test per l'HIV. Allora, fare il test è una cosa molto importante da mettersi in agenda, a prescindere se abbiamo avuto dei rapporti a rischio oppure no. Un buon periodo è questo durante la giornata mondiale della prevenzione contro l'HIV, dove ci saranno molte iniziative e dove è possibile trovare molti posti dove farlo gratuitamente. Ma l'HIV esiste? C'è vicino a noi? In realtà sì, questa è una cosa molto importante da dire. Stereotipicamente pensiamo che l'HIV sia relegato magari in Africa o nei paesi del Sud America. In realtà è presente anche in Italia, non solo in categorie che stereotipicamente sono ad alto rischio, come gli omosessuali, le prostitute e i tossicodipendenti, ma è una patologia che è molto diffusa adesso anche nei giovani sotto i 25 anni. Quindi è un buon metodo, tenersi sempre sotto controllo, quindi fare il test, è la cosa migliore per potersi proteggere. Che cosa posso fare invece per proteggermi dalle altre patologie o dalle malattie, dai problemi che posso incontrare nella sessualità? Non basta cercare su internet o sui forum, su Facebook e chiedere agli amici. La cosa migliore è quella di chiedere a un esperto, che possa essere da una parte un sessuologo o dall'altra parte un medico, un andrologo e un ginecologo. Le ragazze su questo sono molto più abituate ad andare a fare le visite e i controlli annuali del ginecologo, mentre noi maschietti siamo un po' meno abituati in questo. Quindi dovremo iniziare a segnarci in agenda il fatto di andare anche noi dall'andrologo. Altra cosa importante è dove vado a cercare le informazioni se è un problema che riguarda la sessualità. Oltre i siti ministeriali e i siti delle ASL, noi vorremmo darvi come contatto quello dell'istituto con cui lavoriamo, l'Istituto di Sessuologia Clinica di Roma, dove potete prendere sia contatti tramite mail, sia tramite consulenza telefonica, quindi avere un riscontro diretto con degli esperti che sono al vostro servizio e possono chiarire tutti i vostri dubbi. Quindi vi consiglio di cercare l'Istituto di Sessuologia Clinica di Roma su Google oppure digitare direttamente www.sessuologiaclinicaroma.it